In quel tempo molti tra i discepoli di Gesù dissero «Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo?» Gesù, conoscendo dentro di sé che i Suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro «Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima?» «E' lo spirito che dà la vita. La carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono». Gesù, infatti, sapeva fin dal principio che era chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio». Da allora molti dei Suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con Lui. Disse allora Gesù ai dodici «Forse anche voi volete andarvene?» Ti rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio». «Parola del Signore. La liturgia di oggi ci mette di fronte a due miracoli operati qui a Giaffa e un altro miracolo operato a Samaria, un miracolo di Enea che da otto anni giaceva a Lidda sul lettuccio ed era paralitico. Pietro gli disse «Pietro gli disse, Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati, ripatti il letto» e subito lo alzi alzò. «Di fronte al miracolo, gli abitanti di Lidda si convertirono al Signore. La conversione è legata al miracolo, cioè la fede di queste persone incredule scatta di fronte al miracolo. E' il miracolo che parla e gli abitanti di Lidda assentiscono alla parola che esce dal miracolo. Si convertono a Dio». «A Giaffa c'è un'altra donna, Tarita, Gasella. In quel giorno essa muore. Era una donna molto conosciuta perché era ragguardevole, non soltanto, ma aiutava i cristiani. era caritatevole, una donna di grande riguardo per la sua posizione sociale, ma soprattutto per la sua carità, per il suo amore. «Viene a morire». Pietro, in quei giorni, si trova là, a Lidda, e viene chiamato subito. Pietro, lo condussero davanti a quella donna che giaceva nel suo lettuccio, morta. Pietro si inginocchia, prega e dice «Tabità, alzati». «Essa, per gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere, e la consegnò a tutti». «La cosa si reseppe in tutta Giaffa, e tanti credettero nel Signore». «Anche qui scatta la fede davanti al miracolo che parla». Io vorrei abbordare una questione che adesso vedremo. Andiamo al Vangelo. Gesù parla e le parole che Lui pronuncia suscitano la fede, ma non in tutti. «Vi sono alcuni tra voi che non credono». «Tra questi c'è la Giuda». «Gesù si presenta con la sua vita». «La vita di Gesù parla». «Molti credono a Gesù, che si presenta con la sua vita di figlio di Dio». «Perciò noi abbiamo tre fonti da cui procede la fede». «E' chiaro che è la fede a fondamento della nostra vita cristiana». «Ma questa fede procede tra tre fonti». «La fede è assenso alla parola di Dio». «Ma la parola di Dio ci giunge attraverso tre canali». «Il canale della parola da barra». «Il canale di un patto di vino che ha lo stesso termine da barra». «Il canale della vita che parla senza i figli voci». «Per cui la fede procede ugualmente dalla parola, dal miracolo, dalla vita». «Non è esatto dire che la nostra fede si fonda sulla parola». «Per cui i miracoli non contano, per cui la vita non conta». «E' vero che la fede si fonda sulla parola di Dio, ma è altrettanto vero che la parola di Dio non è soltanto la parola che suona, ma è l'opera di Dio che parola, ma è l'opera di Dio che parola e la vita di Dio vivente in una persona che parola. «Per cui è ugualmente la fede che si fonda sulla parola, si fonda sulle parole pronunciate, sui miracoli e sulla vita». «Questo lo diciamo perché possiamo cadere in un equiloco, quasi che i miracoli che succedono sono a discapito della fede, la quale si fonda sulla parola. «Noi sosteniamo che i miracoli sono parole di Dio». «Il termine ebraico, la barra, indica sia parola sia fatto, perché Dio come parla con la parola, così parla con i fatti». «E la fede ha senso a Dio che parla, questa è la fede». «Poco importa se Dio ci parla attraverso la parola, la barra, o ci parla attraverso un'opera, la barra». «Così anche la vita di Cristo è la barra, cioè Cristo manifesta con la sua vita che è figlio di Dio». «Se non volete credere alle mie parole, credete alla mia vita, alle mie parole, alle mie opere, a come io dico e come io faccio». «La gente andava dietro a Gesù perché non tanto per ascoltare la sua parola, quanto perché vedeva i segni che egli faceva». «E quando egli faceva un segno, dice la scrittura, credetteri in lui». «Vedendo il segno, cioè il segno, l'opera e il miracolo, era una parola più viva, più accessibile che la stessa parola». «E scaturiva la fede dall'opera, dal miracolo, più che dalla parola. Perché il miracolo è parola di Dio». «Quando ci vengono a dire che i miracoli non contano, è un errore». «Sia perché il Signore, alla sana predicazione, al Kerichema, ha annessi il miracolo. Perché Dio parla in due maniere. con la parola dell'apostolo, del profeta, del sacerdote, e parla col miracolo, che conferma la parola, dà fermezza alla parola, ma anche il miracolo è parola di Dio». «Nel Vangelo, vediamo, videro il miracolo e credettero». «Quelli che non credevano alla parola, credevano al miracolo». «Ello stesso è Gesù che dice, se non volete credere alle mie parole, credete alle mie opere, perché io faccio le opere di Dio». «Il Padre risuscite ai morti e anche i figli dell'uomo risuscite ai morti». «Per cui se non volete credere a quello che dico, credete a quello che faccio». «Per cui quello che Cristo fa è già locuzione di Dio ed è fondamento dalla fede». «Cristo esige la fede non attraverso la sua parola, ma attraverso le sue opere, attraverso i suoi miracoli». «Dunque è vero che il miracolo fonda la fede». «Il miracolo è locuzione di Dio e parole di Dio, il quale come parla attraverso il suono e annuncia una verità, così parla attraverso un patto e annuncia una verità». «La potenza di Dio, la grandezza di Dio, la misericordia di Dio, la misericordia di Dio, la misericordia di Dio, la bontà di Dio, la salvezza che Dio ha mandato in questo mondo. «Il miracolo annuncia che il regno di Dio è venuto. Quello che vale per Cristo, che vale per Pietro qua, vale per tutti i secoli. Vale anche oggi, per cui il miracolo, anche queste parole di Dio». «E la fede è fondata anche sul miracolo, in quanto il miracolo è parole di Dio, locuzione di Dio, d'amar di Dio, come la vita è d'amar di Dio». «Da questo vedranno gli uomini, che siete i miei discepoli, che il Padre mi ha mandato». «Cioè la prova della divinità di Cristo, della messinità di Cristo è affidato alla vita del cristiano. Da questo conosceranno gli uomini, se voi vi amate, che il Padre mi ha mandato e che la salvezza è venuta. «Per cui è fondante anche la vita di amore del cristiano, fondante alla fede. Se tanti non credono, è perché non hanno l'amore, non vedono la vita divina in noi. La vita divina in noi è locuzione di Dio, è la bar di Dio». «Dunque sono tre i canali attraverso cui Dio ci parla». «Ed è vero che la fede è fondata sulla parola, ma la parola non è soltanto la parola pronunciata, ma è parola il miracolo e parola la vita». «In mezzo a noi abbiamo questi tre canali, il canale della parola, che noi ripetiamo perché l'abbiamo ricevuta, il canale del miracolo, che è parola di Dio, che manifesta la grandezza, la bontà e i misericordi di Dio, la vita di amore, che noi ci portiamo, anche questa è la parola di Dio». «Per cui abbiamo tre canali attraverso cui la fede viene messa qui davanti a noi, perché noi crediamo in Dio e ci salviamo». «Approfittiamo, fratelli e sorelle, di questi tre canali. Fermo sempre restando anche la fede che ci salva, fede però che scaturisce da questi tre canali, che possono essere chiamati parole di Dio, che suona, che opera, che vive». «Eppure davanti a questi tre canali, noi possiamo non credere per la libertà dell'uomo. C'è sempre un margine a qualunque parola di Dio, a qualunque miracolo di Dio, a qualunque manifestazione di Dio nella vita. è il margine consentito la libertà, in cui si insinua il dubbio, per cui tanti non credono, anche di fronte alla parola, anche di fronte al miracolo, anche di fronte alla vita. ecco perché davanti a Gesù, che parla, opera prodigie e manifesta una vita divina, tanti per quel margine di libertà che viene lasciato all'uomo, libertà che Dio non mai tocca, non avendo mai la certezza per quel dubbio che si impietra tra la libertà e la fede, tanti non credono, e lo abbiamo nel Vangelo di oggi. Gesù ha parlato, un lungo discorso che ha parlato, Gesù ha compiuto il miracolo della moltiplicazione dei pani, miracolo, secondo locuzione. Gesù ha mostrato una vita divina, per la sua sapienza e per la sua potenza, eppure tanti non credono. Di qui la libertà dell'uomo è il merito dell'uomo, è la responsabilità dell'uomo. Uno dei punti difficili ad accettare è l'Eucaristia, perché qui entriamo nel più grande dei misteri. Noi siamo disposti ad accettare tutti i misteri che toccano la ragione, il modo di credere, il modo di pensare, e pertanto la fede. E cioè, crediamo alla trinità, siamo disposti a credere alla trinità, anche quando non la comprendiamo. Crediamo, cioè, in tutti i misteri, ma quando ci troviamo di fronte al mistero dell'Eucaristia, qui abbiamo un punto nevralgico, su cui sono caduti tanti attraverso i secoli, e in cui caddero proprio i discepoli a Caparno, i quali in gran parte si allontanarono da Gesù. E' un discorso duro, perché non possiamo comprendere che l'amore di Dio giunga fino a tanto, cioè che Dio ha tanto amato l'uomo da farsi cibo per loro. Nell'Eucaristia Gesù diventa cibo nostro. E attraverso questo cibo che noi prendiamo, Egli si consuma quasi noi, perché noi viviamo di Lui. Gesù non si nega a nessuno, scende dalla bocca del santo e nella bocca del peccatore. L'effetto è diverso, perché il peccatore riceve la condanna, il santo riceve la vita, ma Gesù non si nega. Sull'altare, sia che il sacerdote sia santo, sia che sia peccatore, quando Egli nello Spirito Santo pronuncia la parola questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, scende. si dà a noi. Questo è difficile ad essere accettato dall'uomo, però è la verità, perché l'Eucaristia è il mistero della potenza, della sapienza e dell'amore di Dio. Dio non poteva scogitare un modo di venire a noi, di assumerci in sé e di darci la vita più grande dell'Eucaristia. Quasi si esaurisce la potenza divina, la sapienza divina e l'amore divino. non c'è altra opera che possa meglio manifestare la potenza, la sapienza e l'amore divino quanto l'Eucaristia. Gesù sa che sta compiendo un'opera straordinaria davanti a cui la ragione umana si arresta e la libertà dell'uomo viene messa così a repentaglio. Ma Gesù per manifestare la potenza dell'amore, la sapienza dell'amore, la forza dell'amore si dà a noi nell'Eucaristia perché noi viviamo di Lui per depositare dentro di noi il germe della vita eterna ci dà il suo corpo risuscitato per depositare in noi la risurrezione e la vita. Chi mangia di me e beve di me avrà la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Io sono la risurrezione e la vita. Chi mangia di me ha la vita eterna. e nell'Eucaristia parola incarnata miracola di Dio vita di vita in mezzo a noi che noi abbiamo. Quel meraviglioso dono di Dio che è la vita eterna, quella partecipazione meravigliosa alla natura divina alla vita divina che non potrà mai finire. Ringraziamo il Signore di questo grande dono. Molti non credettero e si allontanarono ma Gesù tiene sempre fermo. Dice agli apostoli volete andarmene anche voi ma questo è il segno del mio amore volete andarmene anche voi e Pietro dice no Signore tu solo hai parole di vita eterna di chi andremo Signore tu solo hai la parola della vita ma c'era la una che non credeva stavo con Gesù da un anno era con Gesù ma dopo un anno nonostante le parole nonostante i miracoli nonostante la vita del Salvatore non credeva ed era giuda aveva perduto la fede due anni prima di tradirlo e lo ha noto Giovanni ossia la fede non obbliga l'uomo a cedere perché Dio rispetta la libertà ma beato colui che cede all'invito di Dio che parla attraverso la parola attraverso il miracolo attraverso la vita e beati noi fratelli e sorelle associati a Cristo e fatti Cristo beati noi se propagandiamo la fede attraverso questi tre canali perché noi credenti uniti a Cristo noi che siamo il Cristo vivente che continua la tua missione salvatrice nel mondo dobbiamo diffondere una fede attraverso la parola attraverso il miracolo attraverso la vita di amore ecco la nostra missione e allora noi parliamo di Dio noi nel nome di Dio operiamo meraviglia noi nel nome di Dio viviamo la vita di amore lasciamoci vivere dallo Spirito Santo è Lui che continua in noi l'opera di Cristo è Lui che manifesta il Cristo in noi il Cristo che parla il Cristo che guarisce il Cristo che vive la vita del Padre grazie Signore perché noi siamo già risuscitati noi già siamo scesi al cielo e sediamo alla tua destra questo noi lo crediamo dalla fede ancora non lo vediamo non lo constatiamo ma già l'opera tua è compiuta attendiamo di constatare a suo tempo quelle che già tu hai operato la nostra resurrezione nell'anima e nel corpo e la nostra ascensione al cielo noi che sediamo con te alla destra del Padre signore è questa fede che ci sostiene ormai apparteniamo a te sia che viviamo sia che moriamo siamo tuoi perché tu sei il signore che vive le morte la morte non ha più senso per noi perché chi muore muore nel signore come chi vive vive nel signore è lui il capo e noi congiunti al capo siamo riviventi sia vivi sia morte perché egli è il capo dei vivi e dei morti oh signore ti ringraziamo di questo grande dono che lui dà dagli uomini la vita la vita eterna amén 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 e adesso fratelli e sorelle preghiamo per tutti i nostri cari che hanno bisogno di vedere la gloria di Dio preghiamo per quelli che sono associati alla passione del signore nelle sofferenze perché la stessa strada che ha fatto Cristo la stessa strada dobbiamo fare noi e in tanti si manifesta più chiara la passione di Cristo la sofferenza di Cristo e né negli ammalati né i sofferenti né gli oppressi né i perseguitati e in essi che Cristo è oppresso e perseguitato è ammalato e carcerato come dice Gesù nel Vangelo io ero ammalato io avevo fame io ero carcerato io ero tribolato io ero igliudo Signore fa che in quest'ottica noi vediamo i nostri ammalati oppresse e tribolate e per essi noi ti preghiamo perché la tua mano sia più clemente ma perché comprendono il valore della sofferenza e associati a te possono cooperare alla salvezza del mondo ma adesso adesso è il momento di chiedere la guarigione chiediamolo con grande fede noi siamo una comunità di credenti noi siamo una comunità terapeutica pregate 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 gli uni per gli altri per essere guariti dobbiamo credere a questa parola dobbiamo credere che Gesù che è qui in mezzo a noi ascoltando la nostra voce e unendosi alla nostra voce implore dal Padre da cui procedo in bene le guarigioni le liberazioni tutto ciò che questa comunità questa chiesa domanda al suo Signore in verità vi dico quando due o tre riuniti nel mio nome chiederanno qualche cosa se chiedono senza esitazione e sono d'accordo tra di loro quello che hanno chiesto sarà concesso dobbiamo credere a questa parola di Dio ed è in virtù della fede che si sposteranno anche le montagne il buon Dio concederà ancora liberazioni miracoli e guarigioni chiediamo con fede gridando a Dio invocando lo spirito perché si riai chiedere dentro di noi e poi gridando Abba Padre prima invochiamo lo spirito e poi l'Abba Padre prendiamoci per mano di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio guariscici guariscici di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio di Dio Grazie a tutti. 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 Abba. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abba. 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 questo tuo immenso amore, siamo i tuoi figli, siamo i tuoi figli, alleluia a te o Signore, 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 alleluia a te o Sign Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Abba, Abba.